Apriamo le scritture del Vangelo di Luca al capitolo 14. Desidero continuare il messaggio delle ultime due settimane. Io ringrazio Dio per come ci guida, per le porte che apre, per le porte che chiude. Ringrazio soprattutto il Signore perché continua a darci visione. Ho detto qualche giorno fa che c'è un proposito, ma ci sono progetti dentro il proposito. Ultimamente, spronato dallo Spirito Santo, ci stiamo adoperando a capire come muoverci. Ci saranno dei cambiamenti. Nell'Opera faremo spazio per un altro aspetto, un altro Ministero dell'Opera che forse negli anni è stato un po' trascurato. Però questo è il tempo. È giunta l'ora, abbiamo detto, la settimana scorsa. Intanto leggiamo la scrittura in Luca, dal capitolo 14, leggeremo dal versetto 16. Allora Gesù gli disse, un uomo fece una gran cena e invitò molti. E all'ora della cena, mandò il suo servo a dire agli invitati, venite perché è già tutto pronto. Ma tutti allo stesso modo cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse, ho comprato un podere e devo andare a vederlo. Ti prego di scusarmi. E un altro disse, ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli. Ti prego di scusarmi. Un altro ancora disse, ho preso moglie e perciò non posso venire. Così quel servo tornò e riferì queste cose al suo Signore. Mi fermo qui un momento prima di continuare. Ho comprato un potere. Questo fa riferimento alle sollecitudini di questa vita di cui Gesù parlava nella parabola del seminatore. le sollecitudini di questa vita. Ho comprato cinque paia di buoi. Questo parla delle ricchezze. Ho il lavoro, la carriera. Devo fare soldi, vado a provarli. Vediamo se fruttano. Questo è l'inganno delle ricchezze. E poi ho preso moglie e perciò non posso venire. Questo fa anche parte dei piaceri della vita. Però ho un piacere ben ricevuto. E io ringrazio Dio per mia moglie. Però da sottolineare qualcosa. Questi cercavano una giusta scusa o almeno una scusa che potevano usare per difendere la loro scelta. ma cosa volevano dire cosa stavano a dire a colui che li invitava. Quello che devo fare io è più importante del tuo invito. Spesse volte noi facciamo il punto della nostra situazione mettendo da parte o cercando quanto più possibile di estraneare dalla nostra vita i propositi e i progetti di Dio. perché siamo più interessati a creare la nostra visione o portare avanti la nostra agenda pur ignorando il volere di Dio. Abbiamo detto l'altro giorno parlavamo del profeta Geo quando profetizzava diceva voi avete le vostre case state costruendo le vostre case vi prendete cura delle vostre case ma guardate la mia casa e il Signore dice voi mettete i soldi li mettete in tasca ma sono tasche forate li ho forati io perché non fate della mia casa della mia opera una priorità. vado avanti versetto 21 così quel servo tornò e riferì queste cose al suo Signore allora il padrone di casa pieno di sdegno disse al suo servo presto va per le piazze e per le strade della città conduci qua i mendicanti e parleremo di questi dei mendicanti mutilati zoppi e i ciechi poi il servo gli disse signore è stato fatto come hai comandato ma c'è ancora posto allora il Signore disse al servo vai fuori per le vie e lungo le siepi e costringili ad entrare affinché la mia casa sia piena perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati gusterà la mia cena nessuna di quelle persone che hanno trovato scuse hanno preferito la loro agenda al proposito di Dio all'invito fatto da Dio dice non gusterà la mia cena voglio mettere tutto questo nel giusto contesto ovviamente il Signore parlava di quelli che avrebbero rifiutato il Signore e non mangeranno alla cena del Signore non saranno presenti ok siamo d'accordo però c'è un altro aspetto per quanto riguarda quello essere chiamati molti chiamati e pochi eletti che il Signore chiama e dà un compito al suo popolo ma ci sono quelli che danno la loro vita e come dicevamo la settimana scorsa sono venduti all'opera di Dio o per sono venduti per l'opera di Dio o anche nell'opera di Dio sono venduti per portare avanti il proposito di Dio il progetto di Dio i primi li metto nella categoria di Chiesa quanti credenti che non sono discevoli vengono nella comunità fanno parte della comunità ma sono indifferenti verso l'opera di Dio cioè si accontentano di venire nella casa del Signore tra virgolette poi la Chiesa la casa siamo noi Dio vive dentro di noi ma venire nella casa del Signore e sono contenti di che quando vengono aprono le porte vedono le porte sempre aperte entrano si godono la celebrazione e così e poi vanno via e ci sono alcuni che lo fanno settimana dopo settimana senza mai essere impegnati nelle cose di Dio abbiate un po' di pazienza la sto lavorando non sono convinto che finiremo oggi però quelli che trovavano scuse sono come la Chiesa perdonatemi almeno la Chiesa che finora ho visto io in generale sono nato diciamo nella Chiesa e ho visto sempre due o tre categorie di persone mi soffermo su due ma una categoria di persone che vengono solo perché gli è conveniente o per appagare la propria coscienza e poi ci sono ci sono quelli che si addentrano nell'opera perché desiderano che l'opera avanzi e il regno di Dio venga la differenza a qualcuno facciamo spesso delle consulenze io e Lidia e le persone vengono a noi perché devono sfogarsi perché hanno tanti problemi e ascoltatemi bene ascoltatemi tutti io non sto dicendo che non è necessario tra virgolette come alcuni di voi dicono disturbare i pastori noi siamo qui per questo ci siamo è chiaro questo ok non ci disturbate mai scusa il disturbo così comincio sempre basta scusa il disturbo vorrei capire il motivo per cui il signore ci ha mandati qui però voi però la visione rimane sempre quella di elevare la nostra attenzione a cose più alte se siamo così ingabbiati intrappolati dai nostri problemi è perché costantemente li guardiamo se costantemente valutiamo quello che è la nostra vita quello che non abbiamo quello che potremmo avere e che non abbiamo o come ci stiamo ci dobbiamo muovere decisioni che dobbiamo fare carriera lavoro e quant'altro siamo presi da queste cose e lentamente lentamente cresce in noi il desiderio di essere guidati da qualche parte perché in tutti i modi si cerca una soluzione o un momento di refrigerio fuori dalle problematiche quotidiane i credenti sono quelli che credono credono in Gesù credono nella sua opera salvifica e noi siamo grati a Dio per questo ma sono pochi quelli che vanno oltre per essere discepolati e io voglio sottolineare qualcosa per tutti noi perché credo a volte che rimaniamo infossati se si può dire in certe situazioni della vita e riusciamo solo a vedere quello che ci circonda però devo dire e lo dico con schiettezza questo atteggiamento è un atteggiamento egocentrico perdonatemi cioè Gesù è venuto ha distrutto l'egocentrismo come l'ha distrutto con l'altruismo ha pensato agli altri e non ha pensato a se stesso sì le volpi hanno delle tane gli uccelli del cielo loro hanno i loro nidi ma il figliol dell'uomo non ha dove posare il suo capo io non trovo riposo e non trovo riposo semplicemente perché sono alla ricerca di anime che hanno bisogno di riposo per farli entrare in quel riposo non per lasciarli in quelle loro condizioni la chiesa purtroppo negli anni è rimasta fossilizzata in momenti di in momenti di movimenti dello spirito se posso dire così erano momenti particolari quando lo spirito visitava la chiesa e ancora sono lì a pensare e a ricordarsi di quello che succedeva una volta ma il dio di oggi dov'è? Dio non ha lasciato la sua chiesa lo spirito santo è ancora nella chiesa e Gesù Cristo è ancora sul trono però si sono così raffreddati nelle cose di Dio da diventare così preoccupati nel portare avanti la propria casa i propri affari la propria cardiera e tutto quello che si fa nel quotidiano è riuscito la nostra condizione è riuscita a sopraffare quelle decisioni che avevamo fatto già dentro di noi e credo che tutti noi abbiamo detto signore io ti servirò come abbiamo cantato io ti servirò per tutti i giorni miei chi l'ha detto veramente volendo dire al signore io ti servirò per tutti i giorni miei quelle parole mi toccano dovrebbero toccare tutti noi alleluia tutti i giorni miei ti servirò fino a quando io alido fino a quando io ho respiro io ti servirò ti seguirò la settimana scorsa abbiamo anche puntualizzato che se noi ci diamo all'opera di Dio per portare avanti l'opera di Dio lui si prenderà cura di noi chi si ricorda è la nostra testimonianza la testimonianza di me e di Lidia e so che è la testimonianza di tanti altri qui dentro che hanno detto signore io mi preoccupo delle tue cose o mi occupo non preoccupo mi occupo delle tue cose e tu ti occuperai di trattare con le mie cose intervenire nella mia vita se ho problemi di salute egli è intervenuto nella nostra casa io sono stato guarito Lidia è stata guarita noi siamo stati guariti mia figlia è stata guarita ma quante guarigioni abbiamo ricevuto quante miracoli di provvidenza abbiamo ricevuto noi nella nostra casa e tanti altri di voi potreste anche confermare che per la vostra vita il Signore è intervenuto l'intervento di Dio e voglio chiarire qualcosa perché credo che tanti non capiscono questa dinamica l'unica cosa che è gratuita è la salvezza tutte le altre cose c'è la pagare anche per questo ministero per avere l'unzione e portare avanti quest'opera c'è un sacrificio se c'è un se la salvezza la grazia di Dio ci salva grazie a Dio siamo tutti per tutti quelli che qui dentro hanno accettato Gesù Cristo nella loro vita sono salvati siete salvati grazie a Dio la grazia di Dio abbonda siamo d'accordo ma se vogliamo fare qualcosa per il Maestro se vogliamo fare qualcosa per il Signore non possiamo fare della nostra casa le nostre attività tutte queste cose la priorità della nostra vita Gesù quanto è duro il tuo parlare ma Gesù è venuto per darci un futuro e una speranza siamo d'accordo perché lavorare instancabilmente per fare per noi stessi un futuro e una speranza ma che pensi che il tuo futuro e la tua speranza sono meglio del suo futuro e la sua speranza sei meglio di Lui ti fidi di Lui ci fidiamo di Lui e se ci fidiamo di Lui ma perché non metti tutto nelle sue mani e dici Signore finora per tutti questi anni sono stato un credente ma adesso voglio entrare nel discepolato e io ho visto come sin dall'inizio di quest'opera in questi ultimi 15 anni della vita di questa di quest'opera abbiamo visto tante persone venire per queste porte entrare per queste porte alcuni sono entrati altri sono usciti ma grazie a Dio per tutti quelli che hanno trovato qui un ospedale per essere guariti hanno trovato il refrigerio hanno trovato alcuni sono venuti hanno trovato pace perché non trovavano pace e che se 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 ne sono andati da un'altra parte Dio li benedica ma almeno noi abbiamo fatto la nostra parte abbiamo provveduto l'ambiente giusto per la loro guarigione ascoltatemi bene voi che siete la mia famiglia la nostra famiglia noi facciamo chiesa o abbiamo una comunità e abbiamo anche una scuola biblica e queste sono le due cose le due braccia se possiamo dire di quest'opera e noi ringraziamo Dio perché molti che erano come gli altri quattro diciamo andate per le piazze e per le strade e portate chi? i mendicanti chi sono i mendicanti? i mendicanti sono quelli che si sentivano poveri anche nella conoscenza della parola di Dio si sentivano poveri e dice io ho bisogno io ho bisogno delle ricchezze io ho bisogno di avere altro io ho bisogno di più non posso rimanere in questa presente condizione io ho bisogno di più e quanti si sono iscritti alla scuola biblica hanno trovato di più perché tutti voi mi dite che siete cresciuti più nella scuola biblica che qui dentro ma i mendicanti sono quelli che erano poveri cioè si sentivano impoveriti nella conoscenza della parola e avevano bisogno di scoprire le ricchezze del regno di Dio e si sono iscritti e hanno trovato del bene sono cresciuti poi abbiamo dopo i mendicanti c'erano i mutilati i mutilati avete visto qualche persona mutilata quanti ne ho visti io non ne ho visti nessuno io sono stato in Cambogia in Cambogia dove stavamo insegnando a 500 pastori era una conferenza e tanti di questi questi pastori sono venuti con le stampelle perché per tutti i campi minati che ci sono in Cambogia dove queste esplosioni hanno perso una gamba hanno perso un braccio hanno perso qualcosa a chi mancava un occhio persone proprio mutilati cosa significa per noi o per i credenti e quanti quanti abbiamo trovato che sono venuti alla scuola biblica che erano mutilati cioè che erano ferite persone le cui anime erano ferite da delusioni del passato insegnamenti sbagliati che vivevano una certa realtà ma poi hanno scoperto dalla scrittura che era qualcosa di completamente diverso perché noi non abbiamo difeso la nostra idea della parola abbiamo permesso alla parola di difendere se stessa e questa è una chiave la fiducia si ha solo nella parola di Dio e quante volte mi è stato detto ma perché nessuno mai mi ha letto questo passo questo versetto ho detto perché non l'hai letto mutilati mutilati credenti che ancora cammino con la stampella perché cercano in qualche modo di capire la verità arti della loro vita che sono stati tagliati affinché quello che era slogato sia risanato dice la scrittura qualcosa che poi deve essere amputato nel tempo perché c'è c'è un'infezione in quella parte c'è uno spirito di amarezza in quella parte di quella vita e bisogna lavorare ma il Signore è il nostro guaritore e il nostro retentore e non c'è cosa che egli non possa fare per noi siamo d'accordo poi c'erano gli zoppi gli zoppi sono i tentennanti quelli che ancora sono tra due opinioni che zoppicano forse questo e forse quello c'era confusione mentale e tanti sono venuti si sono iscritti alla scuola biblica e l'hanno cominciato a capire che non bisogna più tentennare ma bisogna essere camminare in una decisione quella di seguire Cristo e poi tante cose nelle quali tentennavano non c'era nemmeno bisogno di tentennare hanno scoperto che tanti punti interrogativi non erano nemmeno necessari e poi c'erano chi? i ciechi i ciechi sono quelli che non hanno visione non hanno visione per il futuro partecipo alla scuola biblica forse ci sarà riceverò un po' un'impartizione una visione per il futuro avrò qualcosa davanti avrò qualcosa a cui mirare vivrò per qualcosa ci sarà un disegno particolare per la mia vita saprò dove sto andando e quindi ecco la scuola biblica è servita quindi c'erano c'erano primi quelli che si scusarono che era la chiesa poi ci sono quelli che sono il discepolato questi qua che avevano sono i mendicanti che riconoscono di avere bisogno di essere trovare ricchezze di essere guariti nell'anima che hanno bisogno di non tentennare più non essere più confusi nella mente e l'ultima cosa è quella di avere visione per il futuro trovare un motivo per vivere e il signore disse ritorniamo alla scrittura dice signore l'abbiamo già fatto questo e ho detto signore sì chiesa l'abbiamo fatto scuola biblica l'abbiamo già fatto siamo andati abbiamo trovato quelli che erano quelli che erano reduci di battaglie i sviati abbiamo trovato quelli che tentennavano nella fede delusi e feriti e i ciechi che non avevano visione signore questo è stato fatto come hai comandato ma c'è ancora posto diciamo insieme c'è ancora posto fratelli non abbiamo non siamo ascoltate il mio cuore l'obiettivo di Dio per aver mandato Gesù Cristo non era soltanto di salvare te ma era di salvare l'umanità quando si è feriti o quando si soffre l'unico obiettivo è quello di essere guariti personalmente di ritrovare un certo un certo riposo mentale e anche nell'anima ma adesso che noi già siamo in quella condizione cioè che siamo stati guariti quanti voi siete stati guariti non sto parlando solo nel corpo ma nell'anima dove il Signore vi ha guarito ma grazie a Dio per questo e ora che facciamo figliote che facciamo un culto domenica dopo domenica ma non ti stancaste ma stancai alleluia c'è bisogno di aggiungere un altro braccio all'opera vedete che la Chiesa la Chiesa in generale che cresce è matura passa dall'egocentrismo dall'egoismo all'altruismo la vera maturità di un'opera è questo passaggio che eravamo concentrati sulla nostra vita il nostro stare bene la nostra vittoria e io ringrazio Dio per questi meravigliosi canti la vittoria mia è ma io a sentire cantare ma stavo cantando davvero con tutto il cuore tutti voi la vittoria la vittoria vittoria poi quando dice vittoria 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 yeah vittoria tutti vittoria stavo pensando mentre pensavo al paese di vittoria dalla provincia di Ragusa tutti i benedizioni li si stanno pigliando in questo momento e poi partono da tutta l'Italia che dicono vittoria 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 ma no tutta vittoria non capiamo alleluia ma stiamo dicendo questo perché è importante che la Chiesa riconosca che siamo arrivati al punto dove non si deve più parlare di noi il momento in cui cominciamo a parlare di altri e raggiungere altre vite che non conoscono Cristo tutta ad un tratto noi cominciamo a scoprire quanto siamo stati guariti quanto siamo stati aiutati quanto il Signore ha fatto per noi non ci rendiamo conto perché ancora ci stiamo guardando allo specchio quello di casa nostra e ci dice quanto benissimo guarda quello che il Signore fa guarda ciò che Dio fa guarda ciò che Dio fa e ci guardiamo allo specchio e ci sentiamo benedetti guarda quello che il Signore ha fatto e poi vogliamo anche testimoniarlo alla Chiesa sai che cosa ha fatto il Signore per me io ringrazio Dio per tutto questo ascoltatemi ma non voglio rimanere là animi che gridano animi che gridano che cercano aiuto non riusciamo a sentirli non sentiamo il loro grido il Signore ha detto qualcosa di particolare ha detto aspetta siete andati nelle piazze io mi ricordo i nostri padri tutte le tende bianche qui a Messina nelle piazze con i microfoni a predicare e anime si sono convertite grazie a Dio non sono contrari a questo però credo che che il tempo ci rivela di fare altro cosa gloriosa qui si è nelle piazze poi dice per le strade e quante quante ministeri sono andati di porta a porta quindi abbiamo per le piazze abbiamo avuto le tende nelle piazze poi abbiamo siamo andati di porta a porta abbiamo condiviso il Vangelo io mi ricordo la sorella Bruno qualcuno si ricorda la sorella Bruno andava da porta a porta da sola che ministero che ha avuto quella sorella ma il Signore poi disse dice a questi ultimi dice andate dice per le vie e lungo le sepie la traduzione inglese è più appropriata che vuol dire andate indirizzatevi sull'autostrada sulla superstrada e una volta che ho letto questo e poi dice e le vie la superstrada l'autostrada e poi le vie quante comunità ci sono qui nella città di Messina uno a ogni angolo noi comuniamo i chiusali di chiesa cattolica e che ci sono anche salvati nella chiesa cattolica voglio cosa straordinaria io riflettevo stamattina e il Signore parlava al mio cuore e mi diceva sai quanta testimonianza c'è già in questa città è satura ma ci pensaste mai a Randazzo a Castania chi ci sta pensando a tutti questi paesi nel comune o nella provincia di Messina e io credo io credo che è tempo di uscire da questa casa uscire da questa casa e portare il Vangelo portare la presenza del Signore quello che noi abbiamo fatto stamattina la sua presenza questo è ciò che guarirà la gente dice se io sarò innalzato attirerò gli uomini verso di me noi vogliamo andare in un posto ed innalzare il nome del Signore affinché la gloria di Dio scenda in quel luogo e stiamo e ci stiamo adoperando per creare una strategia particolare per raggiungere questi paesi sì siamo la Chiesa continua la scuola biblica continua ma ci sarà anche quest'altro braccio il braccio dell'evangelizzazione perché così la riconosciamola ma dobbiamo raggiungere le anime sai come la chiamo io invasione noi vogliamo andare e invadere territori luoghi oscuri o tenebrati dove dove il cielo tra virgolette dirrame ma noi dobbiamo portare la luce del Vangelo portare Gesù Cristo ascoltatemi bene noi non siamo il Salvatore Gesù è il Salvatore a noi c'è stato detto solo di andare Gesù stesso ha mandato i suoi con l'unzione dice andate in questo villaggio dice se vi accettano rimanete là e date la vostra pace ma se non vi accettano se vi rifiutano se vi rifiutano scutolate i pipetti andate bene abbiamo noi la responsabilità di salvare le anime no abbiamo la responsabilità di dichiarare il Vangelo di Gesù Cristo poi Gesù è il Salvatore a lui sta salvare le anime e vado verso la conclusione continueremo la settimana prossima quindi c'è il primo gruppo era la chiesa i credenti credono nel Signore storicamente uscendo dalla città prendendo l'autostrada come dice la scrittura o la superstrada lì dice il Signore costringeteli non lo dice nella città ma lo dice quando si esce dalla città costringeteli ho meditato su questo costringeteli e voglio voglio leggere qualcosa in merito le loro scuse quando tu li costringi e non perché non vogliono venire io credo che se noi presentiamo un Vangelo che è libero da ogni cosa religiosa libero dalla religiosità che le anime verranno così come sono diciamo insieme così come sono la grazia di Dio non sopporta il vuoto creato dalla religiosità la grazia di Dio vuole vuole coprire o che sia coperto tutto il vuoto creato dalla religiosità che ha detto lui sì lui no lei sì lei no guarda come è vestito guarda come è vestita guarda come agisce guarda come agisce il Signore dice costringeteli a venire nella mia casa io credo che il giorno è arrivato in cui lo Spirito di Dio tratterà con le vite e non saremo noi la Chiesa in generale a dire alla gente da vestiti di sta maniera da vestiti da maniera chissà tu puoi mettere io non tu puoi mettere questa cosa religiosa deve morire e se c'è anche qui dentro deve morire fratelli che devono venire così come sono il Signore vuole fare un'opera grande nella vita di ciascuno lo Spirito Santo trasforma le vite a noi sta solo di presentare Gesù Cristo e il suo grande amore la esatta rappresentanza del Padre qui sulla terra Gesù Cristo nostro Signore e poi è lui a salvare noi lo innalzeremo e lui attirerà gli uomini a sé concorde d'amore Gesù disse io non sono venuto nel mondo per condannare il mondo ma affinché il mondo attraverso di me potesse essere salvato alziamoci piedi Padre meraviglioso noi ci sentiamo costretti costretti a fare qualcosa per raggiungere le vite le anime Signore grazie per la visione che in questi giorni tu stai dando la prendiamo a cuore Signore questa è una missione una missione per raggiungere vite che sono distrutte magari vite che non non si vedono adeguati è come se fossero invitati a questa cena e dicessero ma io non sono vestito bene e il Signore dice falli entrare ugualmente costringeteli a venire così come sono e io li lavorerò io cambierò e trasformerò la loro vita sì Signore e noi vogliamo ubbidirti in questo mandato grazie per la visione grazie per come tu allarghi il nostro territorio ma soprattutto nella nostra mente che il territorio del tuo regno sia allargato padre ti chiediamo soprattutto che ogni cuore qui presente si renda conto di essere un tuo figliuolo una tua figliola e che tu in questi giorni hai bisogno di loro per portare avanti il tuo progetto e raggiungere questo territorio Signore grazie di tutto l'Eterno vi benedica e vi custodisca che gli faccia risplendere il suo volto su di voi e vi dia pace e la sua grazia vada con tutti voi nel nome di Gesù Cristo Amen Amen Andati in Parche